Nella sala della giunta regionale al secondo piano di via Genova, a porte chiuse, si sono incontrati per l'ennesima volta i rappresentanti sindacali e l'assessore al lavoro Michele Petraroia, sotto alcuni operatori delle forze dell'ordine e qualche decina di lavoratori della GAM che attendono, ormai da diversi anni, risposte concrete sugli ammortizzatori sociali e sul futuro della filiera avicola. Il presidente Frattura si è scusato per la sua assenza ma era impegnato a Roma nella conferenza delle regioni. Intanto l'azienda continua a macellare polli a ritmi ridottissimi. Due giorni a settimana la cassa integrazione agricola, la CISOA, sta per terminare, gli stipendi di luglio e di agosto non sono stati pagati e a tutt'oggi nessun accordo è stato raggiunto per la cessione della GAM. Dunque una situazione socialmente difficile che rischia di esplodere. I lavoratori sono fortemente preoccupati, i lavoratori sono incazzati, passatemi questo termine, perché in azienda si lavora poco. Poi abbiamo preso la cassa integrazione, la CISOA, l'IMSS ce l'ha pagata con una cifra irrisoria. Sembra che ci sia stato un errore, speriamo. Quindi alla fine il lavoratore percepisce tra le poche giornate di lavoro quella cassa integrazione così minima non arriva nemmeno a metà dello stipendio di prima. Quindi sono fortemente preoccupati e fortemente arrabbiati. Noi abbiamo oggi delle richieste ben precise. La prima, il futuro. Vogliamo capire qual è il nostro futuro. La seconda è quello dell'inquadramento che è molto importante. Noi l'inquadramento ci teniamo tanto perché adesso è quasi terminata anche la CISOA. Io penso che, non so se ci arriveremo a fine settembre. Quindi siamo molto preoccupati per capire cosa ci aspetta dopo settembre. Ieri avete incontrato anche il liquidatore Tacchilei che è venuto fuori. Ma guardi, ieri abbiamo avuto un'altra decola in testa. Tacchilei ci ha comunicato così, ci ha preso di sprovvista, ci ha comunicato la messa in mobilità, l'apertura della procedura di mobilità per i 30 lavoratori che oggi stanno in Zolaghi. Noi con questa situazione non siamo d'accordo perché noi chiederemo ancora con forza i ulteriori sei mesi di cassa integrazione, quelli che sono stati stabiliti al Ministero e in più cercare di ricollocare anche queste persone. E poi c'è sempre la questione degli avventizi. Questo è un altro punto dolente. Ci sono quasi 300 avventizi che giravano intorno alla Zolaghi, quindi noi dovremo trovare degli ammortizzatori sociali in deroga e se non ci sono dovremo trovare degli ammortizzatori a sostegno al reddito di questi lavoratori.